Guardate il cagnolino che mi segue! Oh mio Dio è super veloce! Questo è un lupo di Minecraft. Adesso invece è un cagnolino di Minecraft. Sapevate la differenza? Prima di farlo diventare tuo amico è un lupo. Dopo avergli dato l'osso diventa un cagnolino. Beh in ogni caso non importa. Quest'oggi non sono qui per parlarvi della differenza tra lupo e cagnolino. Bensì quest'oggi vi mostrerò i nuovi cani elementali. Tu adesso sei un cagnolino normale. Però se io dovessi prendere per esempio un secchio d'acqua e tirartelo addosso, mi raccomando non ti arrabbiare, diventerai un cagnolino d'acqua. Guardate ragazzi è diventato una divinità. È potentissimo e ha ovviamente dei superpoteri tutti i suoi. Allora non so se è ancora mio amico quindi in quel caso dovremmo ridargli un osso. Vediamo. Ok adesso è mio amico se ne sono sicuro. Essendo ovviamente un cane d'acqua i suoi superpoteri sono proprio qua in acqua. Guardate cosa succede se uno scheletro prova ad attaccarmi. Il mio cagnolino lo tiene a bada sott'acqua. Guardate. Adesso lo rispingerà giù. Visto? Guardate. Lui prova a risalire per attaccarmi e il mio cagnolino lo tiene sott'acqua in modo tale che lui poi annegherà. Ah non mi credete? State a guardare. Mi faccio attaccare e guardate il cagnolino ora cosa fa. Dov'è lo scheletro? Guardate. Lo scheletro non riesce più ad alzarsi. Non riesce a nuotare e tra non molto morirà soffocato dall'acqua. Perché il mio cagnolino con i suoi poteri psichici lo sta tenendo sott'acqua a bada. Vai cagnolino. Fallo fuori. Sì sì. Tu attaccami. Guarda cosa ti succede adesso. Oh! Oh mio Dio! L'ha seppellito sotto la sabbia addirittura! Adesso prendiamo due fire charge per esempio. Prendiamo anche un po' di meredoro perché c'ho tanta tanta fame quindi mangiamo un po'. E tiriamo le fire charge sul mio cagnolino normale. E quest'ultimo diventerà un cane di fuoco. Guardatelo. Lascia una scia di fuoco e soprattutto infiamma tutti quanti i suoi nemici. Vuoi per caso uccidere quel coniglietto? Non t'ha fatto nulla. Oh mio Dio. Forse è cattivo. Ah certo che è cattivo. Devo dargli le ossa. Fermo! Ho detto fermo! Prendi le ossa! Mi stai uccidendo il cagnolino! Oh mio Dio. Tu sei un disastro. Non vuoi le ossa? Non puoi metterti contro il tuo padrone. Io ti ho creato. Hai capito? Oh mio Dio. È inarrestabile ragazzi. È tipo la volpe a nove code. Porca miseria. Non so più cosa fare. Oh mio Dio. Ok. Mi servirebbe il cagnolino d'acqua. Cagnolino d'acqua! Vieni a combattere contro il cagnolino di fuoco. Ti prego. Vieni, 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 vieni. Difendimi. Tutti sanno che l'acqua vince contro il fuoco. Cagnolino d'acqua? Vabbè? Perché non mi sta aiutando? Aiuto! Oh! Eccolo! Dai, difendimi. Acqua contro fuoco. Vabbè, vince per forza l'acqua, no? Oh mio Dio. No! No! Cagnolino d'acqua! Non devi seppellire me! Oh! Ha vinto veramente però il cagnolino d'acqua ragazzi. Quello di fuoco non c'è più. Guardate ora cosa succede se tiro due Glowson Dust al mio cagnolino. Oh! Cagnolino dei fulmini! Anche detto Aeroprene. Sembra un po' Aeroprene. A te posso farti diventare amico? Oh! Finalmente sei diventato amico mio. Quindi cosa succede se faccio sponare un... Oh! Mamma mia! Piano, Thor! Oh! Ma è super veloce! Porca miseria! Se sei forte... È fortissimo! Facciamo spuntare un'orda di scheletri allora. Guardatelo con che velocità mi difende! No, io lo voglio nella Candy Craft. Cagnolino, posso assumerti nella Candy Craft, per favore? È veloce... Cioè, sembra quasi che si teletrasporti. Vai, vai, attaccalo! Bravo, bravo! Vai, vai, vai! Sei fallo fuori! Bravissimo! Chissà se riuscirebbe a difendermi anche dall'Iron Golem. Vieni, vieni, vieni! Andiamo, fulmine! I gattini scappano. Ok, vai! Aia! Difendimi, difendimi! Guardate, ragazzi! Guardate! Mi stanno difendendo contro l'Iron Golem! Oh mio Dio! Il mio cane dei fulmine è talmente potente che sta per uccidere l'Iron Golem! Ci rendiamo conto? Ok, però, uccidilo. No, 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 no! Ok, forse non è stato così potente, eh. Facciamo così. Tu diventa mio amico. Ora ti tiro due di questi di terra e diventerai un cagnolino di terra! Sì! Chissà quali sono i poteri del cagnolino di terra. Forse farà crescere tutte le piantagioni? Non lo so. Proviamo a far spuntare uno scheletro. Aiutami! Vai, 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 vai! Di contro. Ah, non l'ho neanche fatto diventare mio amico ancora. Dai, 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 dai! Che cavolo? Che sta succedendo? Lancia i blocchi! Lancia i blocchi di terra in aria! Scusa? Questo sarebbe il tuo superpotere! Togliere le zolle di terra e lanciarle in aria! Ma se... Cioè, non lo so se è un superpotere. Però ha paura! Guardate come scappa lo scheletro! Eh, bravo, dai! È arrivato il momento di provare il cagnolino piuma! Oh! Mamma mia! Il cagnolino della neve! Guardate che bello! Ma, per esempio, se io metto delle pecore, si arrabbiano... Oh, cavolo! Sì, si arrabbiano. Ma che cavolo sta succedendo? Ma le fa volare! Fa volare le pecore! Ma! Eh... Diventa mio amico, per favore, grazie. Quindi la stessa cosa la fa anche con gli scheletri? Guardatelo! Ma poi è velocissimo, ho sbaglio? No, voi state fermi qua. Tu fermo pure. Solo tu. Riproviamoci con le pecore. Ok, attacca le pecore. Oh! Guardate, ragazzi! Non ci posso credere! Tu stai... Oh! Ma perché sei arrabbiato? No, fermo! Mannaggia, non riesco a staccarli dalle pecore. Ok. Diventa mio amico. Grazie. E ora... Fermo. E ora prendi questi e diventa un lupo di ghiaccio. Uh! Bellissimo! Questo è il mio preferito. Sei stupendo. Guardate gli occhi! Può diventare mio amico? Sì! Cosa fai contro una pecora? Ti arrabbia e l'attacchi? Tu fermo. No! Ok, sì, 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 gli va contro. Vediamo cosa fa. Oh mio Dio! No, la congela! La congela, ragazzi! Non ci credo. Riproviamoci. Vai contro tutte queste pecore. Ragazzi, ghiaccioli! Ghiaccioli gratis per tutti! No, ora sono super curioso di vedere questo. Ossa. E dai, quante vuoi? E due di queste. Ecco a voi! Il lupo nero di Aerobrine! Oh mio Dio! È il lupo delle tenebre! Mi fa un po' di paura, se posso essere onesto. Però adesso è amico mio. Quindi non dovrebbe farmi paura, no? Vuoi fermi qua? Tu vieni con me. Attacca il maialino! Oh mio Dio! L'ha disintegrato! Non è possibile. Ragazzi, la disintegra... Guardatelo! Guardate il cagnolino che mi segue! Oh mio Dio! È super veloce! Fermi un attimo. Credo che questo cagnolino sia talmente forte da... Dov'è finito? Dicevo? Oh! Ragazzi! Lo disintegra! Scusami, eh. Testiamo la sua potenza. Vediamo contro il Wither che fa. Eh, forse non lo riesce ad attaccare perché vola il Wither. Però a pari altezza... Ho come l'impressione che il mio cagnolino vincerebbe. Ed è proprio per questo che ho creato una camera di Bedrock. Vediamo come sarà cava il mio cagnolino qua. Allora, aspetta. Prima sponiamolo. Tieni. Ora diventa cagnolino dell'oscurità. Ora diventa amico mio. E... Via! Ok, è morto. Facciamo così. Vuoi provare a entrare? Vai! Distruggilo! Oh! Ragazzi! L'ha ucciso! Questo cagnolino dell'oscurità è riuscito a uccidere un Wither! Aspetta. C'è un altro Wither che sta prendendo danno? Chi lo sta attaccando? Come fai a prendere danno tu? Avamposto dei Pillager? Pfff! No problem! Quando il mio fidato cagnolino è qua con me. Oh cavolo. No, 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 no! Se l'è presa con me il cagnolino. Dove mi ha spedito? Sapete cosa vi dico? Fate attenzione al cagnolino oscuro. C'è qualcosa che non va in lui. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando. Lasciate un super mi piace se così è stato. Dal vostro candle è tutto. E tu cosa ci fai? Là, sei piccolissimo. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Ciao!